Lui sembra che quando era in sé, era bravissimo per i compiuti, però ogni tanto gli partiva la bambola. La bambina andava a scuola con mio nipote, sono drammi, un paesino si litigavano spesso, facevano laggiù per esempio i carabinieri erano già andati tre o quattro volte. Non era mai stato coinvolto nessuno dei figli, nessuno lì? No, ora non lo so di preciso le dinamiche, però un'altra volta la moglie era andata all'ospedale, insomma c'è stato delle cose abbastanza brutte. No, ma sì, ma sì, ma non era la prima volta ma neanche la seconda. E niente, poi sono andata a finirla giù, ieri sera poi è successa la tragedia. Dice, dice, dice che è anche un bravo tecnico informatico. E infatti ha fatto questo bel lavoro. Io abitando qui, io vedi le ambulanze laggiù, dici, vai, ci risiamo un'altra volta. Dice, che ma facciamo una finestra che dà sulle, che in linea d'aria sarà a 200 metri dall'esca. E sentivo anche parlare, sentivo che questa bambina piangeva e la voleva la mamma. E capì che c'era delle cose grosse, anche perché una persona, non so chi, la gli disse Eh, bisogna la rifuliscano, vedi è tutta sanguinosa la mamma, gli si è fiderba. Ecco. E così è, figlioli. Però per me è come il ponte. Si aspetta sempre che qualcuno caschi prima di prendere provvedimenti. Io non so gli assistenti sociali, io non lo so, i capinieri, non lo so, non lo so. Grazie. Grazie.